Il Matelica parte bene ma l'Aquila tira fuori gli artigli e graffia e onora con una vittoria importantissima in chiave playoff la memoria dei 309 morti del terremoto dell'Aquila ai quali si dedica un minuto di raccoglimento prima della gara. Finisce 2-1 allo stadio Gran Sasso e tala concia il big match tra il russo blu e la capolista Matelica. Dopo soli due minuti di gioco è la squadra di mister Tiozzo ad andare in gol, ma Grassi supera Esposito e mette al centro Pertonelli che solo dinanzi al portiere trafigge Farroni. È 1-0, pochi minuti dopo è al nono Gran Bot dalla distanza di D'Apollonia ma Farroni c'è. Un episodio dubbio, al decimo coinvolge Boucher ma l'arbitro fa proseguire. E al dodicesimo l'Aquila è brava a non smarrirsi e Padovani sigla il pareggio dell'1-1. Sieno, uno dei migliori in casacca rosso blu, mette in mezzo e l'attaccante Aquilano è scivolata, non perdona. Al ventisettesimo un angolo degli ospiti pericoloso con lo Sicco che mira direttamente in porta ma il numero uno di casa è accorto. Al ventinovesimo è Boldrini in evidenza con un tiro dalla distanza, ma para De Maligia. Sono continui capovolgimenti di fronte, Matelica veloce e squadra forte, al trentaduesimo Tonelli per Angelilli, para Farroni. E al trentasettesimo un angolo di Boldrini, torre di Caffiero e sforbiciata di Padovani, ancora lui. Ma la sfera finisce tra le braccia dell'estremo ospite. L'Aquila ha poi un'occasione d'oro al quarantesimo, con De Julis in aria da solo, prova a beffare De Maligia con un tiro pallonetto, ma finisce alta. E al quarantaquattresimo è Angelilli che ci prova, ma Farroni smanaccia e allontana. Ma l'Aquila operaia è messa in bene in campo da mister Battistini ci crede. A tanto cuore questa squadra e solo dopo 25 secondi dall'inizio della ripresa, un Boldrini in non perfette condizioni fisiche si rivelerà ancora una volta decisivo. Gli arriva una palla e lui dai 25 metri con una prudezza balistica prima la stoppa di petto, poi senza far cadere il pallone, fa un gran destro a giro e la mette dentro. È 2-1. Anche la ripresa è vivace con tante occasioni, soprattutto perché mister Tiozzo azzecca completamente i cambi che ridanno vigore alla sua formazione. Al dodicesimo Angelilli fa la barba al palo, al diciottesimo Magrassi per Oliveira appena entrato con un tiro di prima sul primo palo, Farroni col piede si salva in angolo. L'Aquila avrebbe pure l'occasione per incrementare il vantaggio, prima al ventinovesimo con Ibe, Messina perde palla e l'attaccante rosso-blu fa tutto bene, arriva solo davanti alla porta, ma il tiro è debole. Pochi minuti dopo, al trentatreesimo, ancora una volta è l'attaccante di colore ad essere protagonista, a portiere praticamente battuto, tira fuori di un soffio. Nei cinque minuti di recupero, al quarantasettesimo per l'esattezza, Gabbianelli prova ad acciuffare il pari con un tiro, ma Farroni a mano aperta ci mette una pezza e finisce così. Soddisfatto mister Battistini, che però tuona sulla situazione societaria e sull'abbandono di una squadra che invece sta facendo tanto, tantissimo. Mister Tiozzo parla di un Matelica vivo comunque. Contro l'Aquila non si poteva pensare di dominare per 90 minuti, visto il potenziale umano della squadra rosso-blu di senza la stampa. Se non ci fosse stato volontà, sacrificio, attenzione, compattezza, poi anche in virtù delle tante cose abbiamo sbagliato, perché la partita doveva essere seppellita, non chiusa, seppellita a metà del secondo tempo. Però questo non è il momento di sottolineare queste cose, è il momento di sottolineare quello che stanno facendo questi ragazzi nelle condizioni oggettive in cui sono. Insomma, sarebbe ora che qualcuno ci riattacchi la luce, sarebbe ora che qualcuno ci paghi i stipendi, sarebbe ora che qualcuno si ricordi che questa squadra sta veramente onorando il campionato. Si sono affrontate due grandissime squadre, venire all'Aquila e pensare di dominare per 90 minuti non è possibile. Penso noi abbiamo tenuto bene il campo sotto l'aspetto del possesso, abbiamo fatto forse sul primo gol, siamo stati poco cattivi nell'uno contro uno lì laterale. Abbiamo sfiorato più volte il secondo gol, ma è vero anche che abbiamo sbagliato qualcosina lì davanti, che ha fatto partire due o tre ripartenze da parte dell'Aquila, che chiaramente ha delle bocche da fuoco lì davanti per niente male.